Alleluia, Padre, Dio onnipotente, alleluia, oh Signore aiutaci Padre a fortificarci in Te, nella forza della Tua potenza, Signore Gesù Cristo, nella luce del Tuo Spirito, alleluia, nel nome di Gesù, alleluia, dacci forza di combattere il buon combattimento della fede, Signore, alleluia, 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 rinnovaci Padre, Dio nostro, Signore nostro, nel nome di Gesù, alleluia, rinnovaci nello Spirito della nostra mente, alleluia, 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 Nel nome di Gesù, Padre, oh Dio, Signore, Tu sei la vera luce, alleluia, alleluia, vogliamo che Tu ci illumini ancora, Signore, e che dissolvi qualsiasi tenebra che sia, Signore, intorno a noi, alleluia, nel nome di Gesù, perché vogliamo camminare nella luce, Signore, vogliamo camminare nella rivelazione della Tua parola, Signore, vogliamo camminare nella conoscenza della Tua parola, alleluia, 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 rinnova le nostre menti, purifica le nostre menti, nel nome di Gesù, Padre, Ti prego, Padre, per ogni fratello, ogni sorella, nel nome di Cristo, in ogni luogo, Padre, alleluia, alleluia, rafforza, rinnova, ogni fratello, ogni sorella, Padre, fortifica la Tua chiesa, Padre, nel meraviglioso nome di Gesù, in questi ultimi tempi, Signore, in questi giorni difficili, in questi giorni di battaglia, fortifica la Tua chiesa, che ogni fratello sia un buon soldato di Gesù Cristo, che ogni sorella sia, Signore, una guerriera della fede, alleluia, nel nome di Gesù, alleluia, 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 che sia il Tuo Santo Spirito, Signore, a guidarci, alleluia, a condurci, Padre, nel nome di Gesù, alleluia, 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 in questa preghiera di fede, nel nome di Gesù Cristo, ramalai a shakata, perché Tu ci hai dato armi potenti, Signore, per distruggere le fortezze, per abbattere, per demolire, Signore, ogni fortezza, ogni ragionamento, ci hai dato, Signore, lo scudo della fede per spegnere tutti i dardi infuocati del nemico, e in questo momento prendiamo autorità per mezzo della fede, del figliuolo di Dio, per mezzo della fede, alleluia, la certezza, gloria al Signore, e spegniamo ni dardo infuocato, spegniamo ni dardo del diavolo, e lo sgridiamo nel nome di Gesù, lo sgridiamo nel nome di Gesù, e come un giorno disse il nostro Signore, vogliamo dire anche noi, vattene via da noi, Satana, vattene via da noi, vattene via da noi, nel nome di Gesù, alleluia, perché colui che vive in noi ha vinto ogni battaglia, ha vinto il mondo, ha vinto, alleluia, ha vinto il peccato, ha vinto la morte, ha vinto e ha sconfitto ogni maledizione, Gesù Cristo, il figlio di Dio, alleluia, che morì sulla croce e prese su di sé i nostri peccati, prese su di sé le malattie, le maledizioni, portò su di sé il nostro vecchio uomo, e su quella croce sconfisse, alleluia, distrusse, alleluia, la condanna che era su di noi, il figlio di Dio, Padre, ti chiedo, per mezzo della fede, nel nome di Gesù, lavaci col sangue di Gesù, da ogni contaminazione, da ogni contaminazione di carne o di spirito, da ogni contaminazione dei pensieri, Signore, da ogni macchia, da ogni ruga, lavaci, santificaci, ramala calia seriatà, ro bo bo kondalabashikata, ramalassi andeleia, kalamai duruiske mehe, hamai assima, isciakataia, fortifica ogni fratello in questo momento, ogni sorella in questo momento, fortifica la tua chiesa in questo momento, scaccia via ogni male, scaccia via ogni tenebra, dal nostro cammino, dal nostro essere, Signore, che ogni concupiscenza sia, mio Dio, dissolta, nel nome di Gesù, la tua parola dice, Signore, che se noi viviamo secondo la carne, se noi pensiamo secondo la carne, moriremo, ma se per mezzo dello spirito, se per mezzo del tuo spirito, mettiamo a morte le opere del corpo, le opere della carne, noi vivremo, Signore, per lo spirito, alleluia, mettiamo a morte ogni opera della carne, trafiggiamo ogni opera della carne, ogni desiderio della carne, alleluia, ogni pensiero diabolico, lo scaccio via nel nome di Gesù, dalla mia mente, e per fede, Padre, nel nome di Gesù, dalla mente di ogni fratello, Signore, di ogni sorella, Signore, scaccia via qualsiasi male, qualsiasi pensiero negativo, qualsiasi pensiero di peccato, qualsiasi pensiero di paura, qualsiasi pensiero, Padre, alleluia, che cerca di abbatterci, o di confonderci, alleluia, dissolvi ogni pensiero, alleluia, carnale, ogni pensiero contrario alla tua santità, tu che conosci, Signore, Gesù Cristo, l'intero nostro essere, tu conosci le nostre lotte, le nostre battaglie, e le nostre debolezze, i tuoi occhi, sono come due fiamme di fuoco, Signore, togli dalla nostra vita, Signore, ravalai, asciacanderebekei, ogni male, Signore, togli, Signore, tutto ciò che non ti appartiene, tutto ciò che non ti piace, dentro di noi, togli, Signore, nel nome di Gesù, purifica la nostra vita, il nostro corpo, il Tempio dello Spirito Santo, purifica, Padre, il nostro essere, da ogni pensione, da ogni debolezza, da ogni Signore, alleluia, iniquità, da ogni pensiero, sentimento, da ogni Signore, sensazione, alleluia, malvagia, Signore, alleluia, 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 ravalai, a kendara bahai, su duru kubria, klimes, ebebebe, sceketerei, tivia, asciuvia, avascia, recandolo bobo, coleketia, ticamai, yeshua, recalebia, samalai, akama, recuto robo, colobo, brucia, animale, Spirito Santo, dissolvi, animale, Spirito Santo, alleluia, Dissolvi, animale, Spirito Santo, intervieni col tuo fuoco, intervieni con la tua potenza, con l'unzione dall'alto, Padre, alleluia, 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 nell'ome di Gesù, ravavalakalavashikalavatarrevekeliandai, shurikebia, tekalavaterrekendaraka, che sia Padre, Dio eterno della gloria, lo Spirito Santo, intercedere per noi, alleluia, con sospiri neffabili, Padre, che sia il tuo Spirito, intercedere, alleluia, 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 riempiti di Spirito Santo, alleluia, 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 come dice la tua parola, alleluia, alleluia, è scritto nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo 1, verso 5 in avanti, alleluia, or, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, alleluia, e che vi annunziamo, Dio è luce, e in Lui non vi è tenebra alcuna, se diciamo di avere comunione con Lui, e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità, ma se camminiamo nella luce, alleluia, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato, alleluia, cari nel Signore, Dio è luce, luce vuol dire santità, luce vuol dire purezza, luce vuol dire verità, alleluia, in Lui non vi è tenebra alcuno, in Lui non vi è oscurità, l'oscurità è il peccato, l'oscurità sono le opere delle tenebre, i desideri della carne, in Gesù Cristo non vi è nulla che appartiene alle tenebre, alleluia, Lui è santo, gloria a Dio, Lui è luce, e Lui vuole che noi che siamo la sua Chiesa, camminiamo nella luce, camminiamo nella verità, nell'ubidienza, nello spirito, la luce è il territorio della fede, alleluia, la luce ci fa vivere in piena comunione col Signore, ma se tu dai spazio alle tenebre, se tu cammini nelle tenebre, non puoi avere comunione con il Signore, non puoi avere comunione con lo Spirito di Dio, perché in Lui non vi è tenebre alcuna, le tenebre ci separano da Lui, perciò fratelli, sorelle in Cristo, noi dobbiamo, alleluia, ogni giorno combattere le opere delle tenebre, sgridare le opere delle tenebre, scacciare via le opere delle tenebre, alleluia, che vengono a noi, che vengono contro di noi, sotto forma di pensieri, sotto forma di dubbi, nella mente, sotto forma di desideri, di tentazioni, che il nemico cerca di mettere nel nostro cammino, ma noi, fratelli e sorelle, alleluia, per mezzo della parola di Dio, per mezzo dello Spirito di Dio, dobbiamo avere il discernimento, e subito dobbiamo, alleluia, scacciare via, rifiutare, alleluia, rigettare nel nome di Gesù, qualsiasi opera delle tenebre, perché se noi diciamo, di vivere in comunione col Signore, ma camminiamo nelle tenebre, se diamo spazio alle tenebre, noi non possiamo avere comunione con Lui, noi non possiamo vivere nella Sua presenza, se tu dici di conoscere il Signore, ma poi cammini nelle tenebre, tu stai mentendo, e non pratichi la verità, ma se cammini nella luce, se rimani in comunione con Lui, e ogni giorno, alleluia, ogni istante, rifiuti le tenebre, combatti contro le tenebre, mediante la fede, tu puoi rimanere, amen, in comunione col Signore, fratelli, in questi tempi difficili, alleluia, con l'aiuto di Dio nostro Padre, dobbiamo sgridare, dobbiamo gettare via ogni opera delle tenebre, come dice Romani, come è scritto in Romani 13, al verso 12, la notte è avanzata, e il giorno è vicino, alleluia, gettiamo dunque via, le opere delle tenebre, le opere della carne, gettiamo via fratelli, amen, ogni opera, delle tenebre, ogni opera della carne, gettiamo le via, nel nome di Gesù, e indossiamo, le armi, della luce, camminiamo onestamente, come di giorno, cioè camminiamo, rettamente, camminiamo santamente, camminiamo, in comunione con Dio, camminiamo onestamente, vuol dire camminiamo nella verità, alleluia, camminiamo nella luce del Signore, camminiamo per lo spirito del Signore, camminiamo, gloria a Dio, nell'ubidienza, alleluia, anche in mezzo alle lotte, ai combattimenti, alle avversità, fratelli e sorelle, dobbiamo avere il desiderio, la disposizione del nostro cuore, dobbiamo essere disposti, a ubbidire al Signore, e allora lo Spirito Santo ci soccorrerà, perché Egli viene in aiuto alle nostre debolezze, e lo Spirito Santo, il Consolatore, è Lui, alleluia, che ci soccorre, che ci libera, è Lui, alleluia, che ci illumina, è Lui nel momento della battaglia, che ci dà la forza, che ci rialza, alleluia, che ci rinnova, amén, siate rinnovati, siate rinnovati, nello spirito della vostra mente, dice la parola del Signore, alleluia, 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 indossiamo le armi della luce, camminiamo onestamente, dice Romani 12, 13, camminiamo onestamente, cioè fratelli, rigettiamo la menzogna, rigettiamo la falsità, l'inganno, rigettiamo il peccato, l'ipocrisia, alleluia, e tutto ciò, che ci porterebbe a vivere, lontano da Dio, rigettiamo nel nome di Gesù, alleluia, prendiamo una decisione, di rimanere nella luce, alleluia, camminiamo onestamente, come di giorno, alleluia, non in gozzoviglie ed ebrezze, non in immoralità e dissolutezza, non in contese ed invidie, ma rivestitevi, dice la parola di Dio, del Signore Gesù Cristo, e non abbiate cura della carne, per soddisfarne le sue concupiscenze, rivestiamoci del Signore Gesù Cristo, per mezzo della fede, Lui è la parola, Lui è la verità, Lui è la luce, alleluia, rivestiamoci di Lui, per mezzo della parola, rivestiamoci di Lui, per mezzo dello spirito, della fede, della preghiera, rivestiamoci della luce, rivestiamoci della verità, del nostro Signore Gesù Cristo, e camminiamo in Lui, per mezzo di Lui, con Lui, in Lui, in comunione con Lui, fortifichiamoci, alleluia, nel nome di Gesù, prendiamo forza, riceviamo potenza, per mezzo della parola, alleluia, nel nome di Gesù, e che ogni tenebra, vada via dalla nostra vita, nel meraviglioso nome di Gesù, per la fede, nel nome di Gesù, per la grazia di Dio, per mezzo della parola di Dio, alleluia, alleluia, alleluia.